bene bene salve a tutti i Vincent Warlike e benvenuti nel mio canale siamo a continuare la campagna con i Lusitani allora abbiamo conquistato Aracillum che era caduta che apparteneva ai Cessetani no che dico apparteneva ai Gallecci e poi è stata attaccata dai Vivisci e l'abbiamo poi conquistata noi perché i Vivisci con l'esercito si stanno spostando e stanno andando verso Brigantium la nostra città la nostro piccolo paese Porto di Mare e verranno ad attaccarci quindi avevo deciso adesso sto mandando intanto questo esercito in aiuto ho deciso di risparmiare qua le lance di Cessius quindi tirarle via dal paese perché comunque in ogni caso non avremo la possibilità di vincere questo assedio che ci porteranno i Vivisci quindi è meglio salvare il salvabile poi magari proveremo a riconquistarla quindi passiamo il turno e appunto mi sa che andremo proprio a vedere l'attacco dei Vivisci adesso ok c'è Cessetani vengono avanti anche loro i Getuli cosa fanno qua i Getuli o Getuli quelli che sono ok come previsto ci attaccano non abbiamo di che difenderci membri delle tribù allora siamo 549 come vedete loro sono molti di più stavo pensando se era il caso semmai di andare a fare una battaglia per provocare più vittime no vabbè ma non avrebbe senso eh comunque dai va bene facciamo una risoluzione automatica magari vabbè facciamo una protezione via tanto per non è che cambi più di tanto ok sconfitta decisiva va bene ehm persi beh 192 uomini hanno perso loro veramente pochi ok cosa ha fatto allora nemico ferito Kattos un agente nemico è stato scoperto mentre agiva contro i tuoi interessi è stato ferito mentre cercava di scappare dov'è che è? non era qua? nascosto nell'ombra eh i vivisci si stanno veramente facendo avanti cosa c'hanno qua? spadaccini scelti eh eh diciamo che sono forti e si stanno rafforzando allora qui che abbiamo? ah i gallecci hanno ripreso la città ah interessante i gallecci si sono ripresi la città quindi cosa facciamo noi? ma da dove sono spuntati fuori i gallecci qua? l'hanno occupata l'hanno lasciata lì allora intanto proviamo ad andare a fermare qualcune di queste almeno proviamo a fermare i vivisci ok con una fornitura di veleno quanto costa? ma mia costa un botto eh volevo reclutare vabbè facciamo proviamo a vedere se riesce sabotaggio militare riuscito beh almeno almeno per un po' grado aumentato per Gaisio bene quindi andiamo a subito da segnare i suoi punti dai apri allora più veleno più veleno qua è il veleno allora assassino veleno 10% reggiro diamogli più veleno che a me piace avvelenare allora a questo punto non possiamo reclutare nulla però avanziamo comunque nella terra dei gallecci pazienza anche se ci odieranno per questo mentre passiamo le unità ai corne di netto mentre poi aiulos lo rispediamo nella madre patria quindi lo portiamo qui a Ebora una situazione alquanto strana ma non capisco i gallecci perché sono rossi non dovrebbe essere in guerra con noi sono in guerra con noi stranamente sono in guerra con noi proviamo a chiedere un trattato di pace è alto chiediamo anche chiediamo dei soldi guardiamo se riusciamo a prenderci 1.500 1.500 ancora alto prendiamo più soldi allora 2.500 è alto 3.500 è alto mamma mia quanti soldi possiamo richiedere 5.000 e tutto quello che hanno è basso 4.500 è basso 4.000 è moderato vogliamo wow ci danno veramente un bel po' di soldi vogliamo se riusciamo a fare una un'iscia della confederazione basso un accordo commerciale vabbè utilizziamo un po' di soldi per magari fare un accordo commerciale soldi che ci hanno dato non accetto nel momento e un'alleanza difensiva dov'è patto di non aggressione è basso vabbè forse perché sono appena rientrati va bene dai intanto ci siamo beccati veramente un botto di soldi 4.000 monete quindi direi di 17 possiamo fare una ballista qua interessante una ballista iberica potrebbe essere interessante qui cosa possiamo reclutare invece beh io più che altro perché più che prendere una ballista al momento direi di rafforzare un po' l'esercito ok proviamo intanto a rafforzarci guardiamo se abbiamo qualche costruzione da poter ampliare tipo la capanna dei pescatori meno ordine pubblico meno 4 l'ordine pubblico quanto siamo qua a 10 10 ok vabbè la stessa provincia meno 4 l'ordine pubblico 9 di cibo 50 la ricchezza altrimenti capacità attacco fanteria corpo a corpo al reclutamento più 1 la capacità di reclutamento 100 di ricchezza morale unità dopo reclutamento ok altrimenti fornisce una guarnigione insediamento fortificato cava d'argilla 140 ricchezza meno ordine pubblico un distillatore di acqua marina 100 ricchezza scuderie sblocco ruolamento di cavallerie di scutari sblocco ruolamento di spadaccine lusitane guerrieri vieterani con scudo fuccina del bronzo 3000 allora ragazzi torniamo indietro prendiamoci i nostri 4000 e andiamo a sbloccare qua che mi sembra molto più interessante dov'è che era qua ok la fuccina del bronzo che si sblocca l'arruolamento dei lancieri lusitani spadaccine lusitane guerrieri veterani con scudo quindi direi di magari aumentare un po' la potenza del nostro esercito qui abbiamo 1000 punto di incontro 100 ricchezza difesa della fanteria corpo a corpo attacco fanteria corpo a corpo reclutamento e vabbè direi di fare anche questo qui così magari potremo fare un nuovo esercito se no aspetta va aumentiamo un po' l'esercito comunque qua perché ne avrò bisogno di un altro esercito d'appoggio ok magari qualcosa spendere un po' meno ok va bene passiamo il turno a questo punto dovremo anche spostarci diciamo abbastanza frettolosamente dai territori dei gallecci per non incappare in cattive relazioni ok i vivisci si spostano va bene allora ricerca completata a terra piena ok missione completata costruzione per sopravvivere la tribù lo ricerco una tecnologia di questa categoria costruzione e l'abbiamo fatto ok rapporto del furiere abbiamo reclutato i nostri uomini e andiamo a scegliere una nuova tecnologia io direi di stare allora ricchezza derivata da tutte le attività produttive mercato di schiavi e pozzo minerario crescita per turno in tutte le province allora meno uno i tempi di costruzione della catena principale nella capitale della provincia negli insediamenti minori permette la costruzione della riserva io direi di fare il drenaggio sotterraneo così magari aumentiamo anche la velocità di crescita e per espandere le nostre città magari fare delle cose più interessanti poi andiamo nella diplomazia guardiamo se con i gallecci riusciamo adesso a fare un accordo commerciale e basso un transito militare no scusate un transito militare e basso e se ti diamo del denaro ma perché quale motivo dovremmo offrire loro del denaro ma lasciamo perdere via un'alleanza unisciti alla confederazione e basso non riesco mica unire un accordo commerciale e basso guardiamo se con del denaro riusciamo a portarceli a casa no neanche con del denaro va bene allora sono alleati militari coi vivisci mi sembra veramente strano guardiamo guardiamo se riusciamo a far rompere l'alleanza militare coi vivisci è moderata diamogli dei soldi beh proviamo prima con la moderata perché non voglio ecco anche loro non erano tanto convinti di essere amici dei visci dopo che li avevano attaccati ingiustamente allora guardiamo un po' se adesso riusciamo a fare qualcosa un'alleanza difensiva e basso proveremo unisciti alla confederazione guardiamo se dando loro dei soldi è sempre basso ok dai siete iberici come noi allora un'alleanza militare bassa e quindi direi di provare un accordo commerciale basso nel prossimo turno determinata sudola ok allora guarderemo nel prossimo turno abbiamo guardiamo un po' se riusciamo a questi gettoli sono nemici dei nostri tra virgolette amici cartagonova e cartagene vorrei veramente fare un'alleanza è bassa avremo bisogno di più soldi avremo bisogno di più soldi magari per fare un'alleanza difensiva guardiamo con cartagonova allora vogliamo fare un'alleanza difensiva magari loro ci accontentano di meno proviamo a vedere non riusciamo non riusciamo potremmo fare un'offerta di denaro proviamo a dare loro un po' di moneta un omaggio di 300 ma no via ce li teniamo che è un quale omaggio se non accetteranno li cacciamo dalle nostre terre allora qua costruzioni a poco prezzo non ne abbiamo va bene allora va bene abbiamo perso un insediamento pazienza vabbè l'importante è che non sia caduto in mani sbagliate quindi muoviamoci verso le nostre terre poi andremo verso quelle che erano le nostre ok quindi ci spostiamo dalle terre dei getuli e dei si dei getuli dei gallecci così non ci odieranno e ci prepariamo qua per un eventuale attacco allora intanto formiamo nuovamente l'esercito anche qui andiamo a prendere ancora qualcosa due prendiamo 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 dai prendiamo qua un strombogliere qui dovremmo avere anche della cavalleria 4 unità di cavallerie molto bene portiamo qua il nostro aiulos ebora aiulos è sempre a riposare ok guardiamo se riusciamo a fare una battaglia qualcosa in questo episodio adesso comunque potremmo avere la possibilità di intanto questi si fortificano continuamente qua nelle nostre terre ecco un esercito l'esercito che avanza pronto al comando e c'è Torige ok missione segnata conquista gli anziani hanno parlato la tribù deve strappare questo insediamento ai nemici conquista questo insediamento Tarraco eh ci abbiamo provato anche in precedenza fervore militare per due turni e tesoreria cinquecento turni rimanenti cinque quindi fazioni in ascesa britannia truppe arruolate allora Tarraco non è altro che la città la capitale dei setani ok quindi ci vorrebbero cinque turni per demolirla allora allora qua ci tiriamo via dalla marcia forzata ok poi ci portiamo qua però qui non abbiamo nessun appoggio vorrei andare a combattere un po' quindi magari facciamo così ci portiamo qua ok va bene pochi soldi nel prossimo turno quindi dobbiamo fare attenzione a non reclutare troppa gente quindi questi direi di lasciarli qua al momento allora proviamo ad andare ad attaccare i corni di cern nudos di cern sasso si fanno indietro ma quanti sono loro sedici sedici allora vorrei avere la sicurezza dell'esercito per attaccarli sasso ready for battle maledizione ho sbaglio ho fatto male i miei conti ma allora andiamo un po' perché sono più forti sono più forti ecco adesso la situazione è cambiata ok andiamo sul capo di battaglia andiamo ad ammazzare un po' di vivisci allora iniziamo la battaglia adesso mi sposto qua perché siamo proprio in una zona orribile come vedete siamo in una pendenza qua si giocava qua già mi viene il comito guardare ok andiamo subito a prendere i rinforzi bene un po' di cavalleria finalmente macaco cos'è macaco oddio qui c'è anche il nostro generale ok guerrillas ok guardiamo un po' andiamo avanti con una cavalleria a vedere se troviamo i nostri nemici dove stanno ok 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 sono qua va bene quindi ci toccherà di fare una marcia ok quindi prepariamo l'esercito qua ok bene prepariamo l'esercito nobili lusitani ok questo è il nostro primo esercito andiamo avanti con la cavalleria a vedere un po' la situazione va bene direi che qua ci siamo magari questo lo mettiamo qua ci aspettano ci aspettano l'ho scoperto va bene adesso pian piano magari acceleriamo un po' va bene va bene ok andiamo avanti portiamoci qua appena al al limite della foresta ok ok l'altro schieramento è pronto e con questo direi di andare avanti prenderli su un fianco quindi ci portiamo direi al limite della foresta guardiamo guardiamo come sono tutti belli colorati veramente molto belli ok abbiamo scopato le unità nemiche nascoste magari marciamo che è meglio acceleriamo un po' ok facciamogli vedere che siamo qui allora Grazie a tutti. Abbiamo scovato le unità nemiche nascoste. C'è gente anche qua. Ok, qui c'è il generale, bene. Direi di toglierle dal gruppo queste. Vabbè, si spostano, va bene. Abbiamo scovato le unità nemiche nascoste. Ok, ci attaccano, bene. Mettiamo la velocità normale. Andiamo subito fuori con l'altro schieramento. Veloci. Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Iberian Cavalry! Battle ready! Ready! Watch out! Kill! Kill! Fire! Linger! La battaglia sta poggendo in nostro favore. On me! Missile spedendo! Linger! Swift! Horseman! Quickly now! Iberian Cavalry! Iberian Sword! Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Iberian Cavalry! Iberian Cavalry! Una delle nostre unità ha usato tutte le... Il nostro generale è sotto attacco. Dov'è il mio generale? Cavolo. Non è qua. Iberian Cavalry! Spearman! Ready! Guitarra! Spearman! We honk now! Iberian Cavalry! Advance and speed! Get... Ready for battle! Iberian Cavalry! Ok. Ma questo è il generale? Ok. Avanti via la Cavalleria da qua. Iberian Cavalry! Riders ready! Warriors eager for blood! Iberian Cavalry! Aspyrus Ion! Tours! A charge! Roar! Ready for battle! Generale nemico è morto! Bene. Avanti! Dio sta pendenza se non mi piace. Ok vittoria! Terminiamo qua la battaglia direi di sì. Vittoria decisiva. Andiamo avanti. Ok abbiamo vinto per la superiorità. Rumerica logicamente perché come esercito è più forte il suo. Allora schiavizza. Uccidiamo i prigionieri. Va bene. Guardiamo se riusciamo a spostarci. No. Vorrei riuscire ad arrivare almeno da Aracillum. Bene. Allora ragazzi concludo qua questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. E poi andremo avanti a vedere se riusciamo a conquistare Tarraco nei 5 Turing che ci chiede la missione. Quindi magari poi andremo a reclutare qualche balista. Adesso vedremo un po'. Dovremmo entrare anche un po' di denaro. Riuscendo a fare magari un commercio con tornare a commerciare con i Gallecci. Va bene dai. Diciamo che siamo sempre qui. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.